Urgente delle tue guide per il mese che sta iniziando, ossia gennaio del 2022, quindi anno nuovo, messaggi nuovi. Vediamo che cosa hanno da dirti di urgente le tue guide. Sceglierai distinto un mazzetto che va dal numero 1 al numero 4, ok? Un mazzetto che ti viene così, il primo che ti viene, quindi 1, 2, 3 o 4, ok? E in più io ci aggiungo anche un bel decreto. Attenzione perché queste carte venano. Allora, andiamo a vedere. Se avevi scelto il mazzetto numero 1, il messaggio urgente delle tue guide è a proposito della legge della sfida e la legge del 3. Quindi, urgentissimo, urgentissimo, se hai letto anche o leggerai a breve, ora non mi ricordo quando deve uscire, no, mi sa che è già uscita la ruota del 2022, vai a vedere perché gennaio è un mese pazzesco, proprio delineerà come va ad iniziare questo anno. Per te inizia con una sfida che va in risonanza, quindi avrai una sfida, verrà messa alla prova su tutti gli ambiti della tua vita. I tre ambiti più importanti che solitamente sono amore, carriera, diciamo così, e qualcos'altro. Quindi può essere anche proprio salute nel senso di corpo fisico. Attenzione a queste sfide perché le puoi vincere, le sfide, vedi, con la gratitudine. Inizia a... praticamente questo messaggio urgente è chiarissimo, posso sintetizzartelo veramente in una pillola ed è, sii grato di tutto ciò che avviene nella tua vita, anziché per esempio arrabbiarti, anziché, non lo so, rimanerci male, anziché andare nelle emozioni negative. Perché? Perché se sarai grato, vincerai la tua sfida e schizzerai proprio, decollerai a livello vibrazionale. E l'universo ama le persone grate e ti darà sempre più cose per essere grati. Ti metto sotto il diario della gratitudine e il mio ebook, il superpotere della gratitudine, preziosissimo, un librettino piccino piccino con tantissimi esercizi di gratitudine. Perché se invece non sarai grato, ti inizierai a frustrare, ti inizierai ad arrabbiare, quell'ira andrà a pesare sul tuo corpo fisico, sul tuo corpo mentale e sul tuo corpo emozionale e spirituale. Quindi mi raccomando, gratitudine anziché arrabbiatura. Occhio che bella risonanza. Messaggio urgente numero 2. Divinità interiore, talenti. È ora di risvegliare la tua idea interiore. I tuoi talenti devono essere messi al servizio dell'umanità. Smetti di essere insicura, smetti di avere paura di non essere all'altezza, smetti di giudicarti, smetti di stare nella tua mente e dirti blu 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 tutto il tempo. Apriti invece all'universo. Abbandonati completamente al flusso della vita. Non cercare di controllare ciò che accade. Diventa un'onda del mare e lasciati portare dalla corrente. Ti fidi dell'universo? Allora, siccome a volte poi me lo dite, me lo chiedete così, non vi ho letto questo decreto, non per niente, ma perché il messaggio era veramente, come dire, chiarissimo. era usare la parola magica grazie. Quindi non c'era, diciamo, bisogno. Qui vi ho letto un pezzetto perché invece aiutava. Messaggio urgente numero 3. Qui che abbiamo? Oh, il deva del settimo chakra. Iniziamo ad aprirci alla potenza del divino. Oppure no. Oggi è il giorno più bello della tua vita. Quindi questo mese di gennaio può essere il mese più bello della tua vita. Legge della polarità, la stessa che era uscita nella ruota, della ruota del 2022. Se ti apri all'illuminazione, se invece resti addormentato, resti nel circolo, nella ruota del povero criceto, non ne uscirai mai. Quindi a te la scelta. Questo mese sarà speciale. Potresti ricevere belle notizie, una persona del passato potrebbe riaffacciarsi nella tua vita, una vincita o una sorpresa potrebbero allietarti. Apri le braccia all'universo perché la gioia sta per bussare alla tua porta. Falla entrare perché per farla entrare avrai bisogno di raggiungere l'illuminazione. Se resti nel pensiero mediocre, quello che ci passa nei media, quello che sta a volte sui social, cioè quel livello così basso, non arriverai a questo. Quindi mi raccomando, davvero urgente e importante. Quarto messaggio urgente e importante, antenati, famiglia, legge del nome. Sapete perché neanche le leggo queste? Sono dei messaggi così veramente, invece di messaggio urgente per le tue guide lo andiamo a chiamare pillole, pillole, bombe a mano dalle nostre guide. Antenati. Io so chi sono, so da dove vengo e so quanto valgo. Legge del nome. Quando hai fiducia in te stesso diventi potente. Ricordati il tuo nome è una mappa di te stesso che ti ha accesso ad altri livelli. Il tuo nome è il frutto dei tuoi antenati. Quindi finisci di pulire il tuo karma familiare. È fondamentale. Probabilmente già sai di essere il custode del karma familiare o una cosa che mi sta capitando ultimamente nelle letture akashiche a vedere che ci sono i co-custodi. Che vuol dire? Ci sono delle persone che non sono gli unici custodi viventi al momento del karma familiare, ma ne custodiscono una parte. Quindi magari se lo sono diviso, suddiviso e ognuno di queste persone ha il compito di scioglierne una parte. Ecco, quello importante è capire chi sei, da dove vieni e quanto vali. E questo lo puoi fare solo quando la tua linea di lineaggio con gli antenati è pulita. Ti metto il corso al karma familiare. Se invece l'hai già fatto, vai a rifare magari la tecnica della cascata, la pulizia. Non fa mai male. Messaggi urgenti, pillole e bombe a mano dalle nostre guide per vivere un gennaio meraviglioso. Ce lo meritiamo. Tanta luce. Ciao!